E' un dialogo per immagini suggestivo tra le difficoltà della nostra epoca, un viaggio affascinante tra personalità e generazioni diverse che affrontano la vita con spirito critico e originali approcci. Così è stata presentata dal Presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni la mostra collettiva intergenerazionale Arte E, inaugurata nella Sala Collezioni di Palazzo Bastoggi. Un'esposizione interessante e doverosa per tenere acceso l'interesse che l'arte contemporanea merita, che ha già avuto due sedie espositive ed eccezioni, come il Caffè Storico Letterario delle Giubbe Rosse e il Palazzo dei Priori di Colle Valdelsa, ricorda Gianni. Una mostra che è un dialogo, un dialogo in continuum e in progress, di artisti dialoganti fra di loro, cementati anche da una grande amicizia, ma anche dialoganti con la società per far emergere quelle che sono le bellezze di questa società, le bellezze dei nostri rapporti, dei nostri dialoghi, ma anche qualche lato oscuro che i pittori mettono in evidenza. Grazie a tutti.